Ti è piaciuto il mixaggio? Ride through my being Ieri sera mi sono fumato un sigaro Ti è piaciuto il mixaggio? Molto Stava veramente molto eccitante A Sound Corner Studio fiamo Non solo sogni ma missaggi con solide realtà Realtà Sì Allora Mi direi Baci e abbracci A tutti voi Un saluto particolare a Luca Ciccarelli Yeah Bye